Ciao, ho il piacere di presentarti l'e-commerce manager certification, un percorso pensato per avviarsi alla professione dell'e-commerce manager. Questo professionista è responsabile ultimo di tutte le attività realizzate da un e-commerce ed in particolare dei risultati da esso generati. A lui riportano diversi altri manager, quali per esempio l'e-commerce marketing manager, il web marketing manager, il SEO manager, il social media manager ed infine il responsabile della logistica dell'e-commerce. Egli deve essere dunque tecnicamente competente per poter progettare una strategia integrata, supervisionare e coordinare i collaboratori che operano su di essa e anche i provider che offrono servizi e monitorare infine i risultati prodotti dall'intera squadra messa in campo. Deve infine saper misurare i risultati prodotti dall'e-commerce attraverso report di Google Analytics, strumenti messi a disposizione da CMS quali Magento ed infine analisi derivanti dagli strumenti di user experience. E-commerce manager certification, un percorso composto da 466 ore di lezioni live, frequentabili in aula a Milano e in diretta online da casa tua o ancora quando e dove vuoi attraverso la formula on demand che ti mette a disposizione le videoregistrazioni di tutte le lezioni. Secondo punto, praticantato reale, work experience. Garantiamo sei esperienze professionali reali part time in sei aree funzionali diverse tra e-commerce, user design experience, SEO e copywriting, inbound marketing lead generation, web analytics, affiliate marketing. Il praticantato prevede un impegno part time di una sera a settimana e realizzabile grazie ai sistemi di videocommunicazione. Non ti fa rinunciare ad un eventuale impegno principale né richiede un trasferimento. Funziona in questo modo. Una sera a settimana ti colleghi via Skype con il coach e del tuo team. Il coach ti spiegherà cosa fare e come. Nel resto della settimana dovrai ricavare del tempo per svolgere i task assegnati. La settimana successiva il coach ti corregge i compiti, ti dà il feedback per migliorare i task svolti in settimana precedente perché tutto ciò su cui si lavora va online realmente. Vediamo i tre principali benefici di questa straordinaria esperienza. Primo, saper fare. Diventerai capace di fare quanto chiedono le aziende e ti sentirai così molto più sicuro. Secondo, potrai inserirlo come esperienza curriculare nel tuo CV dato che i progetti su cui lavorerai sono reali. Terzo, potrai dotarti di un portfolio di progetti tuoi o a cui hai partecipato da poter mostrare ai recruiter come testimonianza delle tue reali esperienze. Terzo punto, servizi di placement. Potrai candidarti alle offerte di lavoro digitale sul nostro portale Digital Jobs e potrai partecipare ai nostri career days dove incontrerai dal vivo i potenziali datori di lavoro ovvero responsabili risorse umane e marketing di importantissime aziende web agencies ed e-commerce. Quarto punto, sessioni di coaching durante le quali un coach ti aiuterà a sviluppare e definire una strategia per la tua azienda. Quinto punto, avrai accesso ad una videoteca di tutorial che in pochi minuti ti consentiranno di risolvere alcune delle problematiche più ricorrenti nelle attività che implementerai. Il taglio didattico, estremamente concreto, è orientato al business e si contrappone nettamente all'approccio accademico delle università e del business school. Ogni modulo è infatti pensato per mettere il partecipante nelle condizioni di poter subito applicare in azienda quanto ha appreso. diamo molto spazio ai software e ai tools, presentiamo esempio case histories, facciamo creare in diretta gli account con i quali potrai operare poi autonomamente il giorno successivo. Ogni modulo formativo prevede delle specifiche esercitazioni durante le lezioni, ma per i più motivati c'è anche l'opportunità di poter integrare queste esercitazioni con delle esercitazioni di livello avanzato che consentono di fare ulteriore pratica. In Digital Coach diamo molta importanza all'orientamento ed è per questo che insieme a noi potrai numero uno chiedere un colloquio individuale con un nostro Digital Career Consultant, numero due seguire una giornata di rentamento dedicata ai temi del lavoro digitale ed infine al numero tre definire una tua precisa strategia di posizionamento professionale all'interno del mondo del lavoro digitale. Per frequentare questo master puoi scegliere l'edizione serale o quella diurna in funzione dei tuoi impegni e preferenze. L'edizione serale prevede una media di due serie a settimana in orari compresi tra le 19 alle 22 e 30 per un periodo di circa 5 mesi. Quella diurna invece comprende 3-4 pomeriggi a settimana dal lunedì al giovedì che consentono di comprimere in circa tre mesi la tua frequenza. Qualunque sia la formula di frequenza che sceglierai puoi contare sul fatto che la durata del percorso formativo, i programmi contenuti, gli esami finali e le certificazioni rilasciate saranno le stesse. Durante ma anche dopo la tua esperienza in Digital Coach puoi contare sui servizi di placement che offriamo. In particolare le offerte di lavoro e l'opportunità che il tuo profilo sia tra i primi considerati per le offerte di lavoro che le aziende ci chiedono di pubblicare sul nostro portale specializzato Digital Jobs. Per sostenere l'esame hai a disposizione ben 5 sessioni annue e se sei lontano nelle stesse date puoi chiedere di sostenerlo a distanza purché ti faccia video riconoscere dai nostri esaminatori. Superando l'esame finale potrai conseguire un documento di una decina di pagine in cui sono elencate tutte le discipline previste dal piano di studi con relative competenze chiave. Con questo documento Digital Coach potrà certificare avendo tu realmente frequentato le lezioni e superato l'esame il tuo livello di competenza. Certificheremo anche il voto finale da te conseguito nell'esame e la percentuale di frequenza alle lezioni. Il giorno seguente alla lezione live troverai subito disponibile della videoregistrazione integrale e di materiali didattici utili per ripassare, da guardare qualora avessi perso la diretta o scelto di frequentare l'intero master secondo i tuoi tempi e ritmi. Voglio infine segnalarti le caratteristiche chiave della nostra didattica. Una formazione tecnica orientata ai software e supportata da esercitazioni che non vi sdegna la strategia ma non la rende teoria. Avrai la possibilità di fare le domande in diretta durante la lezione e anche dopo attraverso il gruppo LinkedIn riservato solo a studenti e docenti. Cosa stai aspettando? L'unica cosa per capire come Digital Coach può aiutarti a dare una svolta alla tua carriera è partecipare a una presentazione live a seguito della quale potrai chiedere un colloquio di orientamento individuale e gratuito con me o con il nostro Digital Career Consultant.